ok quindi quest'oggi come vi ho anticipato su slack l'altra cioè ieri vediamo tre cose quindi sono tre blocchi di slide che trovate sul solito github uno più relativo all'API javascript nel browser che è appunto questa fetch di cui parliamo subito e poi due relativi a react come far interagire la nostra applicazione client col server di cui abbiamo parlato l'altra volta quindi prima di tutto ragioniamo sull'architettura dove sta l'applicazione dove stanno i server perché a questo punto ne abbiamo due quello di react e quello che abbiamo sviluppato l'altra volta per l'API e poi entriamo in un argomento più specifico di react che è come scrivere le funzioni che ci consentono di interagire col server soprattutto dove metterle perché questo sarà l'argomento diciamo di discussione principale di oggi ok quindi parliamo per prima cosa appunto di questa API che si chiama fetch che è appunto l'API più diffusa oramai all'interno dei browser per andare a caricare dati in maniera asincrona quindi in sostanza da codice javascript saremo in grado di inviare richieste HTTP in maniera asincrona quindi lasciandole andare per conto loro e continuare a far girare il resto del codice javascript all'interno del browser quindi per tutto quello che vogliamo fare dentro il browser aggiornare l'interfaccia utente reagire ai click dell'utente alle interazioni e così via e quindi vediamo un po' tutto quello che c'è da sapere su questa API come funziona come utilizzarla come gestire più richieste contemporaneamente eccetera e anche dire che cosa si può fare in alternativa perché questa è l'API fornita dal browser ma come sempre ci sono delle librerie delle aggiunte che possono essere utili talvolta ok quindi trovate come sempre un po' di riferimenti a risorse e per documentazione per diciamo approfondire ulteriormente allora la prima cosa di cui parliamo è come siamo organizzati in questo momento cioè facciamo il punto da un lato a sinistra in azzurro abbiamo il browser che è quello che interagisce direttamente con l'utente e che è quello che fa girare l'applicazione React dove ci sono i componenti abbiamo imparato a scrivere i nostri componenti facciamo partire tutto quanto con npm start tramite lo script che ci prepara tutto e ci mette a disposizione anche poi la funzionalità start che fa partire un server web e che sostanzialmente ci fa funzionare l'applicazione ok quindi qui siamo in questa situazione tralusciamo per un attimo la parte col punto interrogativo che andiamo a espandere tra poco in più l'altra volta abbiamo realizzato un server web completamente indipendente da tutto quello che fa React e diciamo il suo server integrato cioè noi abbiamo scritto del codice javascript server.js in cui abbiamo importato un pacchetto e lanciato un server web abbiamo scelto express e l'altra volta abbiamo spiegato perché cioè tutte le discussioni che abbiamo fatto riguardo potremmo usare quello interno ma scomodo eccetera express più comodo da utilizzare abbiamo imparato e nel laboratorio avete provato a scrivere qualche root quindi qualche url se lo vogliamo vedere nella sua completezza a cui il server web risponde a fronte di richieste che arrivano da un client in questo momento il nostro client era un programma esterno abbiamo provato con rest client qualcuno ha provato con rec bin potevamo direttamente farlo col browser se era una richiesta get e così via non c'era ancora l'applicazione nostra e oggi la inseriamo quindi noi abbiamo il database server express le root che abbiamo definito noi come colleghiamo il tutto abbiamo detto che ci parliamo in json questo l'abbiamo stabilito ovviamente su http perché sono richieste http come facciamo a collegare i nostri componenti react a tutto il resto allora prima di tutto dobbiamo avere una maniera per avere dei cosiddetti side effect effetti collaterali nelle funzioni react che sono funzioni pure che quindi non potrebbero averne cioè non potrebbero modificare cose all'esterno cioè al di fuori di anzi non potrebbero usare informazioni al di fuori di quelle passate come parametri per fare il calcolo di che cosa bisogna visualizzare ma è chiaro che se dobbiamo visualizzare qualcosa che arriva dall'esterno dobbiamo andarlo a prendere dall'esterno ma di questo parliamo nella seconda parte di questa mattina adesso ci focalizziamo su come far partire proprio la richiesta http dall'interno del browser perché in questa riquadra azzurro siamo dentro il browser e ho anticipato che appunto c'è un API apposta che si chiama fetch quindi andiamo a ragionare su questo e poi lo integriamo con il resto dell'applicazione quindi dunque se qualcuno di voi è curioso può andare a curiosare nelle slide dell'anno scorso tra l'altro è utile anche andare a curiosare per esempio mi faceva notare qualcuno durante il laboratorio anche per dare un'occhiata ai vecchi temi d'esame qualcuno si chiedeva ma possiamo avere i vecchi temi d'esame beh sì in realtà basta in cima alla pagina del corso cliccare c'è il link all'anno precedente sono tutti online quindi non c'è niente di segreto e ci sono pure le slide dell'anno scorso quindi l'anno scorso facevamo tutto un discorso un po' più approfondito poi quest'anno abbiamo anche in base al feedback degli studenti i vostri colleghi dell'anno scorso cercato di compattare un po' tutto alle cose più essenziali e quindi non abbiamo fatto tutta la storia se siete curiosi potete andarvela a vedere diciamo è 20 anni che si possono fare richieste a sincrono e http da browser con maniere differenti diciamo che la più recente e oramai quella diffusa su tutti i browser è appunto l'API fetch che è curioso va a leggersi come si faceva prima sulle slide dell'anno scorso la fetch è una funzionalità che è abbastanza facile da usare di per sé basta passare un url della risorsa eventualmente con dei parametri opzionali per esempio settare header eccetera di cui parliamo il default è fare una richiesta get quindi come se l'avessimo scritta sulla urla del browser è praticamente disponibile in ogni contesto cioè è collegata all'oggetto window che è quello disponibile in qualsiasi punto dove programmiamo in javascript all'interno del browser quindi come tante altre funzionalità come gli oggetti globali eccetera quindi diciamo che in qualsiasi punto del nostro programma possiamo scrivere fetch e funziona ecco cosa fa la fetch? la fetch ci fa la richiesta ovviamente aspetta la risposta e intanto cosa ci ritorna? ci ritorna una promise quindi questo è il motivo anche per cui è importante conoscere bene come funzionano le promise perché poi è ciò che ci ritorna la fetch e quindi dobbiamo essere coscienti di come utilizzarle una promise sapete qualcosa che ci viene ritornato nell'attesa che si decida il suo valore il valore della promise se tutto va bene si risolverà nel momento in cui è finito il caricamento che quindi per definizione è un'operazione asincrona perché devo attendere che il server mi risponda e si risolve ad un oggetto un oggetto di tipo response che adesso andiamo a analizzare che ci consentirà di andare a prendere il risultato ottenuto dal server al quale abbiamo fatto la richiesta con la fetch può anche succedere come sapete che le promise non si risolvano quindi in maniera fulfilled ma in maniera rejected quindi se c'è stato un problema, un errore, eccetera bene, la fetch fa il reject della promise solamente in caso di errori di rete cioè non riesco a collegarmi alla rete e scrivete fetch nel browser e il browser non è in rete banalmente ma se è in rete ritorna un oggetto response anche nel caso in cui il server dia codici di errore, eccetera questo lo vediamo tra un instante però è da tenere a mente quindi esempio cominciamo subito con l'esempio così è bello chiaro quindi noi semplicemente nel nostro codice javascript nel browser scriviamo fetch una stringa che rappresenta l'url che avremo quindi composto in qualche maniera e poi attendiamo che la promise sia risolta come si attende che una promise si risolva? ci sono due modi se vi ricordate uno è .den passiamo a una callback che verrà richiamata quando la promise è risolta che prenderà come parametro il valore della promise risolta quindi la nostra response e ci facciamo sopra l'elaborazione che desideriamo se come capiterà quasi sempre a noi e ci viene ritornato un contenuto json faremo il parsing quindi l'interpretazione di questo contenuto in json e creeremo un oggetto javascript corrispondente quindi come facciamo chiamiamo il metodo .json che è uno dei tanti metodi convenienti a disposizione sull'oggetto response che ci ritorna la fetch adesso andiamo a vedere nel dettaglio e passiamo avanti con una catena di den come siamo stati abituati a fare quando abbiamo imparato le promise quindi response.json produce un oggetto javascript che viene passato come parametro alla callback successiva del prossimo den che ne fa quello che vuole qui abbiamo fatto console log ma voi potete andare a leggere il contenuto scorrere l'array contenuto nell'oggetto e c'è tutto quello che desiderate fare a livello dell'applicazione con la risposta che ricevete via HTTP ovviamente è possibile gestire le promise anche con le await lo sapete dobbiamo semplicemente essere dentro una funzione async c'è solo questa piccola particolarità ma se non c'è la facciamo apposta non è un problema mettiamo dentro tutta una funzione async e la chiamiamo e il codice forse per qualcuno potrà essere più leggibile diciamo che è un pochettino più difficile gestire gli errori vi ricordate che in caso di gestione degli errori dobbiamo fare qui un try catch invece qui ci basta scrivere punto catch al termine però il meccanismo è lo stesso risposta parsing json avremo in data un oggetto che dipende dalla risposta se il parsing è possibile ovviamente ma questo è di nuovo un'altra cosa più di dettaglio che andiamo a vedere tra poco nel caso normale dovrebbe essere possibile se non ci sono stati errori, problemi e così via allora parliamo di questo oggetto response che bisogna saper utilizzare per capire che cosa è successo dunque nel caso tipico c'è la rete e quindi la richiesta parte arriverà una risposta da un server sempre che noi abbiamo specificato un server che non esiste eccetera vabbè però questo o non ci risponde va bene allora lì ci sarà problema di rete però se qualcuno ci risponde arriva l'oggetto response l'oggetto è responsabile a una serie di proprietà come tutti gli oggetti javascript e i più importanti sono queste punto ok è un normalissimo boolean ma è molto comodo perché possiamo fare un if su questo punto ok per capire se la risposta del server è stato un codice di successo sostanzialmente della serie 200 oppure no quindi se la richiesta è andata a buon fine oppure no per esempio non ho trovato la risorsa perché ho sbagliato l'url darà 400 e qualcosa 404 l'interno del server darà 500 e quindi c'è stato qualcosa che non è andato e quindi è inutile che mi metto a fare il parsing del body quindi prendere i dati del body perché c'è stato un problema se invece non c'è stato nessun problema ok e quindi con questa proprietà boolean posso facilmente differenziare i due casi posso anche andarmi a prendere il punto status se quindi c'è anche il codice volendo fare il status uguale a 200 ma poi magari 201 eccetera allora dovrei fare se è maggiore uguale a 200 o minore uguale a 299 allora diciamo che è semplicemente una proprietà di comodo poi ci sono degli headers quindi una collezione di headers della risposta caso mai ci interessassero di solito non c'è niente di particolare da andare a vedere negli headers di risposta mentre negli headers di richiesta vedremo che dobbiamo almeno settare il content type in alcuni casi ma questa è la risposta quindi diciamo che se noi sappiamo già che arriva il JSON cerchiamo di interpretarlo come JSON le API sono API che noi dobbiamo conoscere fatte da noi, fatte da altri ma dobbiamo sapere come funzionano se sappiamo che rispondono JSON il contenuto sarà JSON va bene non abbiamo niente da andare a cercare sì potremmo cercare se c'è scritto content type JSON ma se non c'è poi tanto siamo da capo cioè dobbiamo sapere noi che l'API risponde quello ok l'URL va bene l'URL ci serve perché eventualmente il server ci poteva fare un po' di redirect il browser tramite la fetch li segue ecco poi il body che ovviamente è la cosa più importante che ci consente di accedere a quello che c'è scritto nel body della risposta HTTP cioè il contenuto ecco questo è un po' particolare ci diciamo poi due parole in più perché è uno stream e ci metterà poi a disposizione una serie di metodi per poterlo gestire tra cui anche il JSON ok quindi vabbè qui vogliamo vedere diciamo qui più che altro per curiosità perché difficilmente scriverete un codice di questo tipo però volete dare una curiosata potete farlo quindi fetch localhost.json then response e vabbè e ci stampiamo tutto il contenuto dell'oggetto che ci potrebbe interessare headers get content type se c'è ci da application HTML char set eccetera date status eccetera eccetera quindi esempio di come si può utilizzare l'oggetto response niente di particolare ecco come gestire gli errori gli errori dunque dicevamo fetch ritorna alla promise la promise è rejected solo per errori ma non errori HTTP errori proprio di collegamento quindi se io vado nel caso catch della fetch ci vado solo quando non riesco a caricare dati dal server ok se carico qualsiasi cosa indipendentemente dal codice di errore è una promise di tipo fulfilled quindi non non rejected e quindi qual è il diciamo il metodo suggerito per gestire questi casi andare come vi dicevo prima a controllare il response ok se è true vuol dire che diciamo dovremmo aver avuto qualcosa che è quello che ci aspettiamo poi se volete se necessario se ritenete potete controllare leder content type ma appunto vi dicevo prima dipende se tanto non ci ha risposto json e noi ci aspettavamo json c'è un problema su come abbiamo programmato l'applicazione non è che possiamo mettere un if e magicamente trovare una soluzione e poi va bene c'è c'è il catch dove eventualmente possiamo gestire eventuali errori tipo non c'è connessione va bene se volete in quel catch potete scrivere del codice per far apparire un messaggio all'utente guarda in questo momento non riusciamo a collegarci e se dovete scriverlo volete scriverlo lo dovete scrivere qui oppure il try catch se state usando la wait quindi diciamo un esempio un po' più realistico potrebbe essere questo che vediamo ora sulla slide cioè fetch va bene il nostro url quindi la stringa then response ecco forse la prima cosa che potremmo fare è fare il check se il response ok se non è ok throw error non so fate quello che volete potete settare un messaggio potete non so qui dipende molto dall'applicazione cioè magari è normale per l'applicazione anche avere dei casi in cui trova che sono not found io ho fatto una ricerca e non non not found più non c'è la risorsa sul server diciamo non proprio normale ma diciamo mi collego al server il database non è disponibile in quel momento mi dà l'internal server error non è tanto il nostro caso perché noi abbiamo un file ma se ci fosse un database server vero magari per qualche motivo in quel momento non è disponibile mi dà internal server error e beh io potrei dire in qualche maniera l'applicazione in questo momento non è possibile soddisfare la richiesta riprova più tardi il classico messaggio riprova più tardi ok è una risposta http che fondamentalmente non è un 200 e quindi c'è stato un problema nella gestione riprova quindi adesso qui banalmente per non scrivere tante righe di codice abbiamo scritto trow error e quindi qualcuno poi andrà a recuperarsi l'errore tra l'altro ecco vi ricordo intanto ripassiamo un po' le promise eccetera se voi fate una throw in una den finite nel catch e quindi vabbè qui la gestione è molto banale perché è un esempio il console.logr ma potreste fare quello che volete e siete in un oggetto scusate in un componente react potreste settare una variabile in cui vi mantenete l'informazione di errore set set error attenzione in questo momento non è possibile collegarsi potete fare quello che volete se invece va tutto bene e allora processiamo l'informazione lab type response header get content type se type non è application json vabbè allora errore mi aspettavo un json quindi trow un altro trow che finisce qui quindi è un po' diverso da prima prima è un errore del server qui invece ho ricevuto un codice tra 200 e 299 ma il server non mi ha settato application json devo decidere cosa fare dipende dalla mia applicazione ecco qui vi ricordo then then return un rejected promise if something is thrown quindi se fate un throw finite nel primo catch della catena che di solito è anche l'ultimo altrimenti sempre ritornare qualcosa nelle callback del then response così da poterlo processare successivamente nel prossimo then response che che dunque qui non abbiamo ancora fatto il parsing il parsing del json quindi farà return response.json e poi dopo si usaranno le informazioni ok due parole in più sulla fetch abbiamo detto ovviamente il primo e più importante parametro obbligatorio ovviamente l'url ma ci sono anche altri parametri opzionali c'è un oggetto cosiddetto init che si può passare quindi aperta chiusa graffa con delle proprietà per dirgli di fare una richiesta http con certe caratteristiche ecco la prima cosa che ci viene in mente è il metodo di default è get ma noi abbiamo bisogno di usare diversi metodi http quindi quando abbiamo bisogno di fare post put delete eccetera quindi dovremo specificare il metodo gli headers dicevamo prima dobbiamo fare delle richieste con un body e dobbiamo scrivere header content type application json perché vi ricordate l'altra volta abbiamo visto che il server è espresso qualsiasi altro server se lo vuoi non dite il content type non può sapere che è json e quindi non vi accende il middleware json che va a interpretare il contenuto come json e quindi in maniera molto comoda fornirvi l'informazione già sotto forma di oggetto nella rec appunto rec body del server poi c'è il body in cui ovviamente dobbiamo mettere l'informazione se una get non è previsto il body ma in tutte le altre è previsto post put beh le delete no però post put è previsto cioè post aggiunge un elemento e quindi ovviamente devo mettere informazioni dell'elemento mod vabbè mod riguarda una cosa che non vedremo in questo corso diciamo possiamo tralasciare però non abbiamo incluso per completezza credentials va bene è giusto per dire che siccome poi ci sarà la questione di autenticazione se vogliamo che vengano inviate le informazioni di autenticazione tipicamente i cookie oppure no e signal eventualmente un oggetto per gestire l'interruzione della richiesta perché magari l'utente potrebbe voler interrompere la richiesta e come facciamo a interrompere una fetch in corso un'operazione asincrona se non c'è qualcuno che ci dà un API che possiamo utilizzare per andare ad interromperla e questa prosegue perché la fa il browser il browser che la implementa quindi deve fornirci un modo per farlo anche se devo dire la verità questa non è una cosa così utilizzata però se state usando una fetch per caricare tantissimi dati magari può essere interessante interromperla nel nostro esempio nel nostro corso fondamentalmente lo usiamo per interagire con delle API con pochi dati per cui fondamentalmente non lo andremo a utilizzare in pratica ok esempio di post adesso che abbiamo i parametri possiamo fare una post come faccio a fare la post perché il default sarebbe get fetch url virgola l'oggetto vedete che è un oggetto con le agraffe con le proprietà che scriviamo metodo due punti post headers ecco tra l'altro che è un altro oggetto oggetto dentro oggetto perché può esserci possono esserci tanti headers content type application json mi raccomando va scritto esattamente così e poi body perché ho bisogno di dire cosa mando cosa mando nel body devo sostanzialmente mandare una stringa cioè dei dati dei byte verso il server e se devo mandarlo in formato json c'è questo comodo metodo stringify o stringify so come si dirà in inglese che mi consente di convertire l'oggetto che io passo quindi object to send che sarà un oggetto javascript in cui ho messo tutto quello che mi serviva in formato json quindi non devo scrivermelo io ci mancherebbe json è uno di quegli oggetti globali a disposizione diciamo all'interno dell'ambiente javascript che quindi posso utilizzare senza importarlo eccetera come fetch come array come object eccetera la stringify mi converte tutto l'oggetto ricorsivamente quindi anche campi complicati quindi anche proprietà complicate quindi questo array verrà convertito interamente non è che mi metta riferimento all'array perché tanto dall'altra parte poi ovviamente non me ne farei nulla quindi mi creerà una stringa aperta graffa virgolette doppie perché nel json serve una virgolette doppie titolo chiuso virgolette doppie eccetera eccetera e secondo la sintassi del json che abbiamo visto l'altra volta fa tutto da solo ok catch catch con una callback in cui fondamentalmente gestiamo l'errore di rete ricordo questo è sempre l'errore di rete non è un problema la post non è riuscita a scrivere nel database questo non è un problema di rete e dovrà andare e dovrà essere gestito diversamente in un punto den che qui non abbiamo scritto in un punto den che faccia come prima no response ok eccetera eccetera e vado a interpretare se tutto è andato bene oppure quindi questo è l'errore di rete ok perché è la catch della fetch ok se ci sono dubbi o domande mi raccomando scrivete su slack io sto monitorando è in rete il computer dovrebbe funzionare ecco veniamo al body leggere la risposta del body perché è un po' particolare vale la pena di spendere due parole si può leggere il body ma si può leggere una sola volta questa è già una prima particolarità no only once solo una volta dopodiché consumato perché perché è uno stream no e lo stream è perché è uno stream perché potremmo avere risposte anche grandi non è che tutti ci rispondano con una stringa di 20 caratteri 100 caratteri che il nostro oggetto json cioè voi la fetch la potete usare per scaricare due gigabyte di roba e se scaricate dei dati ovviamente non è che potete aspettare di caricare due gigabyte di dati in memoria e poi gestirli e quindi ve li dà mano a mano che arrivano però questo implica che nel momento in cui noi colleghiamo qualcosa a questo body poi questo body si consuma e quindi come gestiamo il body abbiamo detto sì che c'è response.body ma response.body è proprio lo stream ed è scomodo da utilizzare infatti noi l'abbiamo usato qui ma qui è l'oggetto della fetch da mandare ma nella risposta noi nell'esempio prima avevamo usato .json non .body allora cosa esiste oltre il .json esistono questi metodi che possono tornarci utili in particolare i primi due soprattutto il secondo direi nelle nostre applicazioni quindi questi sono su response non response.body perché ma perché sono così utili che hanno pensato di metterli direttamente lì cosa fanno semplicemente prendono direttamente loro il body quindi lo consumano noi se accediamo poi a appunto body dopo averli chiamati non ci sarà più niente lì dentro quindi non è da fare questa cosa e ci ritornano o i dati in plain text quindi come una stringa oppure facendo il parsing in .json oppure in altre maniere quindi se sono dati binari ovviamente non vogliamo usare nessuno di questi due metodi ma vogliamo avere i dati binari stessi come blob va bene oppure come un array eccetera diciamo che questi sono di scarso interesse per noi perché noi poi vogliamo interpretare i dati in formato json però avete una serie di altri metodi utili in casi un po' più particolari notate bene tutti questi metodi ritornano anch'essi una promise e l'abbiamo visto dunque era ecco infatti abbiamo scritto punto den dopo nella callback return respond json se avessero ritornato del testo non avrei potuto scrivere punto den dopo e invece ritornano una promise e posso scrivere punto den e usarla come promise e quindi questa callback in questo caso la console.log verrà eseguita solamente quando il parsing è terminato e il parsing procede in maniera sincrona quindi se ricevete due megabyte di dati diciamo json e il parsing ci mette cinque secondi faccio un esempio così a caso non avete il problema che state bloccando nulla perché sono asincroni e ritornano una promise anche loro non sono sincroni ok ma diciamo noi siamo esperti con le promise quindi questo non ci crea nessun problema anzi meglio perché essendo asincroni non ci bloccano tutto il resto dell'applicazione se no avremmo dovuto metterli chiamarli in maniera asincrona eccetera perché se no tutto ciò che fate in maniera asincrona vi ricordo vi blocca l'interfaccia dell'applicazione cioè l'utente fa le cose e l'applicazione non reagisce bene essendo tutto asincrono nel momento in cui abbiamo bisogno di fare più fetch e diciamo perché carichiamo più url si può programmare tutto in maniera molto semplice abbiamo imparato con la wait diciamo che questo è il caso più semplice in cui non gestiamo gli errori quindi non abbiamo messo un try catch eccetera però diciamo che noi carichiamo una prima risorsa facciamo il parsing quindi dal json tiriamo fuori gli oggetti andiamo a tirare fuori delle informazioni e vogliamo ulteriormente altre informazioni a seconda di cosa è arrivato dalla prima richiesta possiamo mettere nella stessa diciamo catena di codice un'altra fetch che dipende da cosa ho tirato fuori prima e così via e alla fine tirare fuori e ritornare i dati che mi interessano con la wait è tutto molto lineare il codice è sequenziale anche se asincrono questa è la forza della wait l'abbiamo già detto quando ne abbiamo parlato in passato ma appunto questa è la cosa interessante scriviamo in maniera sequenziale partiamo dai slash users json se comincio con slash carico dallo stesso server stessa porta dal quale mi è arrivato tutto il resto dell'applicazione quindi mi tiro fuori la risposta questo è l'oggetto response sul quale il metodo json faccio il parsing del json qui non ho controllato avrei fatto meglio a fare if response ok diciamo per semplificare l'esempio giusto per farvi vedere due fetch insieme abbiamo tagliato un po' di cose users users è un array beh allora prendo il primo elemento poi prendo il campo name del primo elemento lo metto dentro una stringa che compone diciamo l'urla che va a una seconda fetch aspetto la seconda risposta faccio il parsing e ottengo i dati che mi interessano fetch sequenziali ecco notate che queste sono sequenziali anche se asincrone quindi mentre gira la fetch mentre gira il parsing json l'applicazione può fare del resto però le fetch sono sequenziali non è che parte questa fino a che non ha finito il parsing del json sulla risposta della prima perché in questo caso è anche giusto perché la seconda fetch dispende dalla risposta della prima prima faccio una cosa carico una cosa e poi carico un'altra questo è il caso più naturale avrei potuto fare anche tutto con una catena di den sapete vantaggi e svantaggi dal punto di vista del codice equivalente e dal punto di vista della lettura del codice un po' meno le catene di metodi sono un po' meno leggibili del codice sequenziale questo è l'approccio che vi suggeriamo quando avete da fare più fetch in sequenza e capiterà spesso nell'applicazione perché appunto io carico magari la lista di elementi e poi voglio l'informazione più specifica su alcuni elementi normalissimo posso anche fare le cose in parallelo ogni tanto ho bisogno di richiedere più informazioni e non necessariamente una deve aspettare l'altra per esempio abbiamo l'esempio che usiamo sempre a lezione abbiamo la lista degli esami e la lista dei corsi sono due cose che non è che una deve aspettare l'altra sono due liste indipendenti quindi possono anche andare in parallelo se il browser è in grado di caricare in parallelo queste informazioni perché non farlo infatti si può visto che c'è la fetch la fetch ritorna le promise abbiamo imparato a far girare in parallelo le funzionalità diciamo che ritornano promise possiamo usare questo approccio possiamo anche farlo sequenziale come prima ma stiamo un po' perdendo tempo se la banda della rete ci consente di fare le richieste in parallelo e serve ci risponde in parallelo perché non usarlo come fare qui trovate un esempio ovviamente un pochino più maconoso dell'esempio di prima perché semplicemente perché dobbiamo usare un metodo apposta delle promise per sapere quando tutte sono state completate quindi promise.all l'avevamo già intravisto quando abbiamo parlato delle promise qui lo rivediamo utilizzato in un contesto pratico diciamo che abbiamo un array di url quindi che so il courses e exams la prossima volta vedremo un esempio promises ci facciamo una map un array map url fetch url ecco questo è un array di promises perché io chiamo la fetch ovviamente queste sono get quindi non hanno alcun altro parametro non c'è virgola oggetto opposto eccetera sono semplici get di default fa get va benissimo promises e poi devo aspettare che le promises siano completate quindi promise.all promises array then results vi ricordo che il promise.all vi dà come risultato un array di oggetti che sono quelli di cui le promises hanno fatto il fulfill o reject no il sì il fulfill diciamo che poi nel codice è response no no è response reject e adesso mi sfugge dunque c'è reject e sì response reject di solito scriviamo non nel codice quindi avremmo fatto response è andato tutto bene reject se non sono riusciti a collegarsi in rete e e e quindi sarà un array e per questo diciamo lo tratto come un array quindi const res of results e lo processo adesso qui ho fatto un for ma poteva anche se sono due so già che sono solo due perché io ne ho messi due prendo results di zero results di uno e saranno i valori che mi servono e ne faccio quello che voglio adesso qui ho fatto text perché così ci faccio console log ed era vedo risultato sotto forma di stringa ma potevo fare punto json e caricarmelo nel 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 posto che mi serve nell'applicazione settarlo come è stato insomma fare tutto quello che volevo ok quindi fondamentalmente abbiamo visto la fetch come usarla in sequenza che è il caso tipico quando una fetch dipende dall'altro oppure anche in parallelo se abbiamo bisogno di caricare più dati in parallelo è chiaro che diciamo c'è un po' un limite a quello che si può fare in parallelo perché se voi avete una lista di 100 oggetti da caricare sì certo potete fare l'array di 100 promise poi partono 100 richieste http del browser il browser avrà un limite perché non è che consente a javascript di fare tutto quello che gli salta per la mente il server ha anche rispondere a 100 richieste in parallelo per un solo utente quindi va bene ok prima o poi diciamo qualcuno le gestirà magari non andranno tutti in parallelo io ho chiesto potenzialmente se si può potrebbero andare tutti in parallelo va benissimo c'è una domanda sulla chat scusi nel caso di promise la promise fallisce se entrambe falliscono no la promise fallisce solo se una fallisce se mi ricordo bene e quindi bisogna andare a gestirse il caso un po' manualmente quindi ecco questo questo è uno dei trade off da valutare è proprio quello che sta al programmatore decidere è certo che se ho due url e appunto devo un attimo valutare se mi conviene di fare una cosa di questo tipo oppure se mi conviene che so appunto ok far promisol ma diciamo gestire poi o farle separatamente e anziché promisol magari non ho bisogno di promisol perché ogni volta che termino una richiesta fetch posso andarla a scrivere da qualche parte questo potrebbe essere una soluzione certo che nel momento in cui ne ho tante ne fallisce solo qualcuna devo scrivere un po' di codice e avere una gestione un po' più sofisticata per andare non so a rimandare le richieste fetch solo di quelle fallite e tenere quelle che sono state diciamo ottenute correttamente dalla fetch quindi è chiaro che ok più richieste fetch ma deve avere anche una motivazione buona per farle perché poi c'è la gestione nel caso in cui c'è qualcosa che va storto ok diciamo che questo lo volevamo far vedere per far vedere anche un'applicazione pratica diciamo del pro misol non è detto che sia necessario farlo nella vostra applicazione nel senso che se avete tre richieste da fare al server delle vostre API potete anche farle in maniera sequenziale non casca il mondo a meno che diciamo non ci sia una richiesta che deve scaricare che so 100 megabyte ecco e vabbè allora quella forse vale la pena di tenerla da parte assincrona e procedere con le altre una dopo l'altra perché quella probabilmente ci metterà tanto tempo e quindi quando ci arriva tutto utilizziamo il risultato se invece diciamo sono veloci diciamo che il vantaggio di farla in parallelo si perde un pochettino allora va bene ok non c'è la dipendenza ma forse posso anche gestirmela in questa maniera sequenziale perché perché è molto più facile gestire l'errore come diceva il vostro collega diciamo anche se però qui appunto dovrei fare un try catch per ogni blocco quindi il codice ovviamente quando si vogliono gestire gli errori il codice si complica sempre questo c'è poco da fare quindi sta un po' alla sensibilità del programmatore capire diciamo qual è il buon compromesso per l'applicazione ultima slide sulla fetch non esiste solo la fetch perché la fetch diciamo è abbastanza buona come API è abbastanza facile da usare ma come tutto è migliorabile no in molte hanno scritto librerie alternative per fare la stessa cosa ovviamente sotto basate sulla fetch perché poi quella è l'API del browser se devo parlare col browser devo usare quella o un altro meccanismo più vecchio ecco se uso una libreria ho qualche vantaggio in alcuni aspetti se volete provare potete provare a giocare un pochettino con questa Axios che vi raccomandiamo non da usare per forza ma diciamo se volete provare una libreria alternativa fetch diciamo che ha alcune caratteristiche che possono tornare utili per esempio per cancellare una richiesta ha un metodo apposta è molto più facile mentre la fetch non ce l'ha alla fetch bisogna passare un oggetto apposta abort controller chiamare un metodo su quell'oggetto eccetera si può impostare un timeout che la fetch non ha bisogna farsela a mano con tutto un meccanismo un po' macchinoso un set timeout che a un certo punto chiami questa abort dell'oggetto che passiamo alla fetch la Axios invece dunque no non c'è l'esempio vabbè sostanzialmente ha un campo gli metti il timeout e se lo gestisce da sola quindi se ci sono già implementati tutta questa cosa vi dà delle callback per portare una progress bar per esempio quando scaricate tanti dati che è una cosa carina dal punto di vista dell'utente ma la fetch non ce l'ha ome si può fare tutto perché ci dà uno stream eccetera però diciamo nella libreria è già stato fatto tutto vi fa la conversione automatica json ok va bene funziona ci aiuta a fare tante cose che potrebbero tornarci utili funziona anche bene in Node.js ecco notate la fetch è un API del browser quindi non c'è di default dentro Node.js quindi in Node.js non potete scrivere fetch a meno che non caricate una libreria che vi implemente la fetch allora a sto punto se la dovete usare in Node tanto vale usare una libreria che funzioni un po' meglio che abbia più funzionalità Axios per esempio non che ne abbiate bisogno perché noi nei nostri server non andiamo a fare richieste verso server di terzi però se proprio volessimo che so andare a chiedere l'ora esatta un server pubblico in giro per la rete dal server avremmo bisogno di un qualcosa di questo tipo ok non ci sono domande per ora quindi abbiamo parlato un po' di fetch io andrei avanti adesso poi nella seconda parte del corso della mattina anzi scusate proviamo qualcosa in pratica quindi non teniamo la lezione troppo noiosa ma abbiamo bisogno di mettere giù qualche concetto prima di andare a fare qualche prova e il secondo concetto di cui parliamo questa mattina è come fare interagire client server con React perché in questo momento abbiamo diciamo un piccolo problema che forse qualcuno ha già intravisto cioè il fatto che abbiamo due server due server web abbiamo quello integrato con React quando sviluppiamo la nostra applicazione React facciamo dalla terminale npm start e parte un server web perché il browser quello che ci si apre con localhost 3000 parla con un server web ma ieri no scusate la scorsa settimana ieri e lunedì in laboratorio avete provato a sviluppare qualcosa con un altro server web express quindi a questo punto ne abbiamo due come li mettiamo insieme perché l'applicazione deve essere servita quindi il server di React non è che possiamo buttarlo via e però deve avere la possibilità di parlare col server dell'API che mantiene l'informazione nel database ce la va a caricare e così via quindi tutti e due ci servono come facciamo a farli funzionare insieme bene noi vi proponiamo una soluzione ok in realtà ci sono tre soluzioni ma le altre due le lasciamo diciamo come lettura a chi è interessato non le chiediamo l'esame non vogliamo che siano usate l'esame noi vogliamo che sia usata solo questa l'esame anche se diciamo è la soluzione facile da usare nell'ambiente di sviluppo ma di nuovo se no facciamo diventare il corso da dieci crediti l'anno scorso forse un po' abbiamo sbagliato e in effetti qualcuno si è lamentato dicendo che il corso aveva un po' troppa roba quindi ci dispiace togliere completamente l'informazione per cui l'abbiamo lasciata nelle slide ma noi vedremo solo la prima parte di questi slide chi vuole si legge il resto è curioso vuole sapere va bene ok quindi noi andiamo a vedere come gestire i problemi dei due server e lo gestiremo col proxy interno del server di sviluppo di react e adesso vi spiego come si fa non è l'unica alternativa ma abbiamo un disegno che ce lo spiega meglio quindi noi siamo in questa fase in cui abbiamo l'utente il browser è l'applicazione react abbiamo aggiunto fetch con le slide di prima quindi siamo in grado di parlare poi con il server web che adesso non c'è qui sul disegno che ha le api quindi che lavora sul database noi però facciamo partire l'applicazione react dal terminale scrivendo npm start e cosa fa l'npm start l'npm start dei react script cioè quando abbiamo fatto react create app no come era non ricordo il nome del comando vabbè create react app ha scaricato una serie di pacchetti eccetera metto tutto a posto e c'è un server web di sviluppo di react che viene insieme a tutti gli altri pacchetti di react che noi facciamo partire con npm start che quindi va a interpretarsi tutti i file javascript che abbiamo inserito il parsing del jsx fa tutto il necessario apre un browser web lo manda sul localhost 3000 perché la porta è di default del 3000 e fa la prima richiesta http get slash sul localhost 3000 e mi arriva html css eccetera ci viene servito tutto quello che è necessario per far funzionare l'applicazione quindi l'applicazione react parte qual è il problema è che nel react development server non si può far girare express che è quello che abbiamo scelto noi ce n'è un altro che hanno usato per conto loro non ci interessa neanche quale sia e non ci consente di scrivere le nostre root per cui noi non è che potevamo dire vabbè adesso siamo capaci a scrivere le root da express le prendiamo le portiamo copiamo incolliamo in qualche file qui dentro nel pacchetto react e funzionano purtroppo no ok quindi questo è quello che abbiamo fatto finora con react e noi vogliamo integrare questa parte cioè quello che abbiamo fatto l'altra volta abbiamo scritto qui c'è index.js può essere server.js insomma e tutto quel codice che importa pacchetto express crea aggancio in middleware crea le root e fa partire il server web ed è un server web diverso ah qui c'è scappato rest era http non lo scorsi facciamo rest vabbè comunque il server http fatto su express con le sue root eccetera eccetera che può parlare con la fetch perché la fetch parlerà con questo noi vogliamo che la fetch che abbiamo appena imparato parli con questo parli con questo via json ed è proprio per questo che ci tenevamo a fare il server che era in grado di capire il json e rispondere in json e tutto quanto qual è il problema di questo server è che non è che possiamo scrivere jsx qui dentro non è che possiamo fare copy and colla di quello che c'è abbiamo scritto nel server react nei file js javascript del server react e metterlo dentro a express non sa cosa sono i componenti react quindi e da un lato c'è react e dall'altro c'è il nostro server dell'api come facciamo a metterli insieme cioè ci ritroviamo nella condizione di avere due server è quello che dicevamo prima il problema dei due server che è proprio il problema tipico diciamo di react o comunque di tutti i framework che vengono insieme con un server utilizzato per lo sviluppo ok quindi i problemi sono allora o teniamo i due server in qualche maniera li configuriamo in maniera che possano essere usati entrambi oppure dobbiamo portare tutto su un unico server come facciamo allora prima di tutto ogni soluzione ha i suoi vantaggi e svantaggi come sempre nell'ingegneria non solo nell'informatica una soluzione avrà un vantaggio da una parte ma un svantaggio dall'altra non c'è la soluzione migliore se no non vi parleremmo neanche di tutto questo discorso vi diremmo questa è la soluzione migliore punto avere un unico server è più facile perché perché si gestisce poi quando effettivamente l'applicazione funziona in produzione cioè vuol dire che non c'è più uno che scrive codice e lo prova ma una volta che l'ho messa su un sito per funzionare con gli utenti veri avere un unico server da gestire ovviamente è più facile però non è neanche la cosa migliore se è un'applicazione grossa perché tenere i server separati l'API dell'applicazione può anche essere una cosa utile se l'applicazione è grossa ma ci sono i problemi di sicurezza da gestire c'è questo problema del course di cui non parliamo nel corso perché ci sembra un argomento che appunto è un po' come dire borderline per questo corso nel senso che non è che potete con la fetch andare a caricare informazioni da un qualsiasi server in giro per la rete per una questione di sicurezza dovete fare in modo che in qualche maniera l'applicazione sia conoscenza di questa operazione e questa operazione sia un'operazione di cui l'applicazione si fida quindi ok ottenere più server ma bisogna gestirla a questione della sicurezza tra l'altro in certi casi questa soluzione è per forza obbligata perché se il server dell'API non l'abbiamo fatto noi ma lo fornisce un terzo voglio andare a prendere le previsioni del tempo non è che ce le ho io le previsioni del tempo c'è su un servizio web in giro per la rete voglio sapere che ora è voglio sapere altre informazioni in giro per la rete quanto quota l'euro dollaro quanto non lo so come sta il covid quant'è la percentuale di malati covid e se le informazioni in giro per la rete non ce l'abbiamo noi facciamo una richiesta http c'è un endpoint quindi c'è un server web da qualche parte che è così cortese da risponderci però dobbiamo dire la nostra applicazione è andarla a prendere quindi ci sono vantaggi e svantaggi noi ci poniamo in un scenario molto più limitato nel senso vogliamo semplicemente far funzionare la nostra applicazione poi appunto per chi è curioso si guarda la seconda parte delle slide eventualmente se ha poi dei dubbi o delle domande volentieri rispondo magari anche su slack oppure diciamo durante il laboratorio o in altre occasioni in cui abbiamo possiamo sentirci noi vi facciamo vedere la soluzione più semplice e comoda per il corso anche quella a sinistra quindi noi abbiamo il browser abbiamo l'application server react quello che parte con npm start per fortuna l'application server react ha il suo server web e tutto ma ha anche un modulino che fa da proxy che quindi può andare a fare esso stesso richieste verso un ulteriore server http che sarà il nostro server http express e sul quale mettiamo le nostre api ma queste verranno mandate indietro al browser tramite la risposta sempre dal react application server cioè il react application server dietro le quinte va a chiedere al nostro server si fa dare la risposta e la passa indietro al browser come se fosse una risposta sua questa è la cosa più semplice il browser vede un solo server che è sempre solo quello da cui ha ricevuto l'applicazione che tra l'altro è la cosa più semplice dal punto di vista della sicurezza perché vedi un solo server tutto arriva da quell'applicazione non c'è nessun problema non è che stai andando a fare richieste verso altre altre soluzioni implicano che il browser faccia richieste verso due server differenti quindi quello react e quello http che scriviamo noi oppure altri server in giro per la rete ma qui c'è da gestirsi questo problema appunto del course cross origin request sharing cioè appunto questo problema della sicurezza cioè vogliamo fare molta attenzione a a chi può andare a fare richieste perché poi queste informazioni questi dati queste cose scaricate da questo server addizionale o altre in giro per la rete vanno a far parte della nostra applicazione quindi possono andare a influenzare il comportamento della nostra applicazione quindi c'è da fare molta attenzione oppure terza soluzione react ha la possibilità di creare un cosiddetto production bundle cioè un insieme di file da mettere su un server di produzione cosa vuol dire di produzione un server in cui non c'è più tutto l'ambiente di sviluppo eccetera c'è solo quello che serve a far funzionare l'applicazione e e si può mettere su un server web vero con tanti utenti e così via no giro per la rete nel cloud dove volete e allora beh se mi produce questi file io questi file li metto su un server web consentitemi di dire così vero nel senso non che gli altri siano finti ma un server web usato effettivamente per servire gli utenti nella realtà quindi un server web che non è un server web di sviluppo una patch in jinx i.e.s se proprio volete serva di questo tipo quindi sviluppati per gestire tanto traffico tanti utenti e così via perché perché react fondamentalmente mi crea una serie di file statici qual è il problema di fare questa operazione il motivo per cui non la facciamo è che perdiamo la possibilità di fare il debug noi stiamo imparando e il debug è fondamentale no e allora se mi crea una serie di file statici io lo posso tranquillamente mettere su server express dove ho anche le altre route quindi le altre api o comunque mettere sul server web dove ho implementato tutto il resto dei servizi delle api che mi consentono di parlare con il database eccetera noi non vediamo queste due soluzioni vi dicevo sono descritte nella seconda parte di queste slide per i curiosi noi guardiamo solo questa come far funzionare questa soluzione quindi noi vogliamo usare react development proxy quindi per noi le api che sono sul server express non saranno direttamente accessibili da parte del browser ma saranno accessibili solo chiedendo lo stesso url al server di sviluppo di react ok quindi questa è una caratteristica fornita dal react development server è già lì è già pronta c'è solo una righina da scrivere nel file di configurazione ah scusate c'è una domanda che è stata lì sì un minuto nel caso i due server si trovino sullo stesso dominio ma su due porte diverse comunque è necessario impostare il course sì sì e questa è la nostra sfortuna e quindi il vostro collega dice ma sono tutti e due su localhost dobbiamo impostare il course sì purtroppo sì e se no avremmo adottato probabilmente questa soluzione senza tante storie di configurazione e così via ma non si può perché sono server diversi e non si può ecco l'ho dato per scontato scusate ma penso che al vostro livello sia ovvio non si può far girare due server sulla stessa porta ovviamente perché? perché poi quando arriva la connessione TCP alla porta 3000 e tutti e due sono sulla porta 3000 a quale server la mandiamo? la porta serve a distinguere le applicazioni agganciate sulle porte ci può essere una sola porta cioè una sola applicazione agganciata su una sola porta quindi se ho la 3000 c'è solo un server web se io lancio il secondo server web il secondo server web mi dice guarda che la porta è occupata io non posso partire e poi il sistema operativo che gestisce TCP non sa a chi dare il pacchetto quando arriva o meglio a chi dare i dati visto che TCP se ha la prima o la seconda applicazione quindi ci serve un'altra porta ma un'altra porta vuol dire che è un altro server e il course fa distinzione tra l'altro giustamente perché altrimenti basterebbe appunto cambiare la porta su Google.com intanto 81 82 83 eccetera e se per Google ma magari qualcuno adesso ho scherzato un po' diciamo su Google non è che potete andare cioè dovete possedere l'IP di Google però diciamo se avete un IP e diversi server su diverse porte sullo stesso IP o sullo stesso nome di dominio diciamo sono server differenti direi che è giusto così ok se noi facciamo in questa maniera quindi come dicevamo c'è il React Application Server attiviamo questa funzionalità del proxy il React Application Server risponde agli stessi URL del nostro Application Server che fa le richieste cioè che risponde alle root che abbiamo configurato noi ma noi abbiamo risolto il problema il browser vede un solo server problema risolto il browser pensa ci sia un solo server e in effetti c'è c'è un solo server perché è l'applicazione è il server React che si occupa lui quando riceve un URL non sa cosa farsene di provare andarlo a chiedere al server express se il server express risponde con qualcosa di buono passa indietro la risposta al browser in realtà anche se risponde con qualcosa di non buono nel senso 404 500 eccetera viene passato indietro al browser solo se non risponde niente vabbè ci sarà una risposta da parte l'application server ma vuol dire che non l'abbiamo attivato ok quindi il browser accede ad un unico server React Application Server ecco questo è quello che dobbiamo fare il web server React è configurato per funzionare da proxy per certe richieste perché per slash quindi localhost 3000 slash quindi la root la root si la l'url diciamo di base serve l'applicazione React quella è sua e serve la sua su tutto il resto che non conosce va a chiedere all'altro server quindi tutte le richieste che non conosce sono spedite all'altro server tramite il meccanismo del proxy il proxy ritorna la risposta inalterata come se fosse la risposta del React Application Server quindi prende il body e lo passa indietro senza toccarlo come si fa a configurarla è molto facile si prende il package json creato dagli script che creano l'applicazione React e si aggiunge una riga mi raccomando virgola ricordatevi di aggiungere la virgola proxy due punti questo è json per cui dobbiamo mettere virgolette proxy virgolette due punti e l'urla http localhost 3001 questo è l'indirizzo del nostro server http che ha le API cioè che parla col database eccetera perché 3001 perché non possiamo usare 3000 come dicevo prima ed è per questo che la scorsa settimana abbiamo usato 3001 non perché ci piacesse l'uno ma perché sapevamo che poi finivamo in questa condizione in cui sul 3000 abbiamo già l'altro ovviamente potete mettere la porta che volete basta che la configurate sul server e basta che nella riga del proxy mettete quella giusta solo non potete usare una già utilizzata nota bene funziona solo in modalità sviluppo usando il create react app cioè non è che voi potete fare quello che volete aggiungere un proxy due punti in un package json qualsiasi e questo diventa un proxy no funziona solo perché chi ha fatto il create react app si è preoccupato di includere anche un server web che avesse questa funzionalità e che quando si attiva va a vedere se c'è la riga proxy e se c'è la riga proxy lo configura ok però è la nostra condizione va benissimo qui queste sono le regole nel dettaglio di che cosa succede questo è un 938 sì e quindi il server di sviluppo di react serve la richiesta direttamente se se solo se è qualcosa di riconosciuto nel senso che se gli chiedete un'immagine un css eccetera una delle cose che sa che ha allora ve la serve oltre alla slash quindi oltre alla richiesta iniziale il logino dell'app l'index jas eccetera tutte le cose che ha che sa e sono richieste tramite un header anzi si dice nella richiesta che sono si accetta text html allora vi serve per conto proprio la richiesta altrimenti di default andrà sempre a usare il meccanismo del proxy per andare a chiedere all'altro server e ritorna la risposta che darà l'altro server se non viene trovata la risorsa sull'altro server servirà qualcosa di default quindi i browser ecco notata ancora questa cosa usano questo header http che si chiama accept cioè accetto come risposta un text html solamente quando aspettano effettivamente dell'html quindi la prima volta che fate la richiesta ci sarà accept test html e questo è giusto nel momento in cui invece fate delle richieste con le fetch eccetera tra l'altro questo header che potete controllare ma di per sé non ne abbiamo bisogno nel senso che diciamo noi sappiamo a chi stiamo chiedendo sappiamo già che risposta arriverà e il browser semplicemente va a fare la richiesta come gli abbiamo detto di farlo ovviamente buona pratica evitare degli url che vadano in conflitto perché perché non è che potete fare le vostre API su che so slash index js no perché perché è già servito dal web server di sviluppo di react no come che so tutti i vari CSS o non so le varie immagini tutto quello che mettete come facciamo a evitare sicuramente di andare in conflitto beh usiamo un prefisso unico per tutte le nostre API ed è per questo che un'altra volta le chiamavamo anzi in laboratorio anche le chiamavate tutte slash API slash ma perché perché così sappiamo che iniziano tutte per API non abbiamo niente che non facciamo una cartella API dentro react e abbiamo risolto il problema degli eventuali conflitti ok molto semplice no facciamo un urla un prefisso di urla apposta ok questo è un po' più avanzato ma è quasi l'ultimo riguardo questo discorso di per sé si potrebbe usare anche diciamo in modalità produzione cioè questo sistema anche non c'è niente di sbagliato nell'usarlo con il proxy quando effettivamente mettiamo sul nostro server vogliamo farci lavorare sopra gli utenti eccetera eccetera molti server web utilizzati nella pratica hanno la possibilità di agire da proxy per esempio Apache e Jinx che sono i due più diffusi tra l'altro open source hanno due due righe di configurazione che si possono scrivere per farli funzionare come proxy quindi di per sé si può tranquillamente anche usare questo schema dell'unico server quindi senza il problema di mettersi a configurare la sicurezza eccetera anche quando l'applicazione la mettessimo effettivamente in produzione però è un argomento appunto un po' più avanzato noi questa cosa non la facciamo quindi è solo una curiosità è una curiosità per dire che se facessimo così per esempio potremmo avere anche un IP privato per il server dell'API perché tanto viene esposto fuori su internet sempre solo l'IP pubblico del server web del primo chi sta dietro non ha necessità di avere un IP pubblico e chi fa le richieste non ha necessità di conoscere va bene questo era solo una curiosità errori comuni attenzione ecco bisogna ricordarsi sembra banale ma ogni tanto capiterà di far partire il server dell'API oltre a React quindi noi facciamo npm start vogliamo far funzionare la nostra applicazione non va perché sì c'è proxy però se non attivo l'altro server che quindi devo attivare da parte in un altro terminale fare node server.js oppure node.mon server.js se sto sviluppando è un po' più comodo così si ricarica da solo e devo solo ricordarmi di far ripartire tutte e due sono due è vero che potrei pacciocare nel package json per farlo partire però onestamente abbiamo preferito lasciar perdere nel senso che vabbè i curiosi sicuramente cercano un po' su internet e vedranno se nella sezione start del package json andate a mettere un comando due in più e il server web è sempre lì vabbè potete farlo partire insieme però insomma ma vabbè poi questa questione direi che possiamo lasciare perdere nel senso i prefissi questo API bisogna che sia poi configurato correttamente se siamo su dei server di produzione eccetera perché lì ovviamente ci sarà poi anche tutto un ragionamento una configurazione da fare che ha un senso diciamo considerando tutto il resto dell'ambiente magari ospito più server web e tante cose ok tutto il resto è lasciato per la lettura individuale solo per quelli interessati quindi noi fondamentalmente ci formiamo qui nella spiegazione adesso vediamo in pratica vi faccio partire questi due server così vediamo come si parlano e quindi vediamo proprio l'esempio dal punto di vista realistico e nella seconda ora e mezza poi vediamo come far partire le richieste fetch da react no? è il pezzettino che ci manca quindi qui chi vuole è curiosa e va a vedersi come bisogna attivare il course e quindi bisogna fare attenzione quando si fanno le richieste oppure facciamo il bundle quindi fondamentalmente ci facciamo creare dei file statici che però non sono più debuggabili diciamo ci sono tutti i comandi tutte le cose da fare pro contro eccetera eccetera la cosa interessante che ci mette anche dentro diciamo molte risorse che potrebbe essere utile però appunto lasciato alla lettura personale e non è obbligatorio e non serve per l'esame all'esame non solo vorremmo ma vogliamo che sia configurato tutto con lo schema che abbiamo detto cioè react development server col proxy porta 3000 porta 3001 e il server sulla porta 3001 express ok perché perché siete 100 e più se ognuno fa come vuole non riusciamo neanche a far partire il progetto chiaramente si parte male se si riesce anche a vedere qualcosa ok e poi stiamo sviluppando e quindi non ci piace la soluzione dove non si può più vedere il codice debuggare eccetera quindi andiamo in pratica a vedere qualcosa quindi in questi pochi minuti che ci restano quindi adesso questo ecco questo lo porto su altro schermo quindi io ho diciamo già l'esempio pronto per la prossima area e mezza però ho fondamentalmente due cartelle che è lo stesso schema che vi abbiamo dato per il laboratorio stavo cercando di farvi vedere apriamo il file manager ecco no questo è un altro corso esempio use effect ok io ho due cartelle client e server mi spiace che è un po' piccolo ma ve le lecco quindi cominciamo dalla facile server dentro il server c'è server.js ok niente di di particolare quattro righe adesso vabbè questo è un esempio che usiamo dopo no però quattro righe che fanno creano express lo fanno partire sulla porta 3001 punto ok quindi questo è il server e questa è una cartella server e poi la cartella client che tra l'altro è anche quello che ho aperto qui no la cartella client che ha il solito react create app no cosa c'è in più c'è che qui dentro dunque dove il package json c'è tutta la roba che mi ha scritto automaticamente come si dice il react ma c'è questa riga che io ho messo prima in realtà si può mettere anche dopo si può mettere dove volete no l'importante è fare attenzione alle virgole no perché bisogna solo fare in modo che insomma non ci siano problemi il json è un certo formato se mancate una virgola mancate le vie le doppie virgolette e così via ovviamente poi non funziona quindi io faccio npm start vabbè adesso mi ha aperto l'applicazione però non non fa niente di particolare nel senso lui parte sulla porta 3000 come siamo stati abituati a fare finora tranquillo va bene c'è questa riga in più se mettiamo una cosa che non capisce ci darà un errore ma se abbiamo scritto tutto correttamente va bene cosa abbiamo messo abbiamo messo l'indirizzo dell'altro server come facciamo partire l'altro server apriamo un terminale e lo facciamo partire nel senso che qui in visual studio avete solo un terminale no mi sembra veramente una cosa eccessiva trovare un sistema per mandare in background questo e farlo partire nello stesso terminale apriamone un altro e facciamo prima quindi corso v1 esempi era use effect server ok quindi abbiamo i file e facciamo node server ahia cosa è successo ah mi sa che l'avevo già aperto prima qui dice address ready news 3001 io l'avevo già aperto da qualche parte perché volevo avere eccolo qua volevo avere il server già pronto adesso rispondo alle domande sulla chat quindi io lo lancio ovviamente ce ne può stare solo uno in ascolto sulla stessa porta e ne ho uno sulla porta 3000 una sulla porta 3001 adesso vabbè l'applicazione è vuota però di per sé io posso fare tutto quello che voglio nel server ho dunque nel server che non mi dà il server vabbè server avevo un api number che mi restituisce un json io posso fare 3000 barra number ma io no com'era le demo sono sempre così number sì dovrebbe andare perché non va allora proviamo prima sul 3001 ok number 3000 perché non mi funziona 3000 casca un po' tutto il discorso che ho fatto no vediamo un po' cosa succede network c'è il proxy per quale motivo non deve funzionare number ah ecco vabbè è perché è perché in realtà ha fatto la richiesta html non ha passata al proxy vabbè è nata male questo esempio infatti non l'ho provato prima credo che se lo facciamo con rest client http puoi rispondere sul chat localhost 3000 numbers method get headers ok proviamo not found che non ho passato mia phone non found oppure proxy ce l'ho messo e finirà che me lo guardo nella pausa dunque reqparams numbers no è una root è una root dove è andata è una root deve funzionare secca così come ha funzionato sul 3001 se io la faccio sul 3001 cioè questa è la root se non lo rimappo no ah no number ah number ok grazie allora sul 3001 ovviamente funziona ci ha dato 200k con la response 3000 scusate ok ci ha risposto anche sul 3000 questo è passato dal server react grazie abbiate pazienza ho scritto numbers ma ma si chiamava number senza la s allora leggiamo tutte le domande c'è un'icona con più che apre un altro termine su uscode se non sbaglio grazie allora gentilissima più ottimo ah ok quindi me li vedo qua va benissimo allora ok potevamo farlo partire qua e quindi facciamo server ricordatevi chiudiamolo dall'altra parte se non succede come prima grazie gentilissima cambiano node server e quindi ce lo troviamo qui solo che poi appunto dobbiamo ricordarci che ne abbiamo due aperte grazie se clicca l'icona a sinistra nel cestino apre un terminale laterale in vs code perfetto anche lui diceva così non è rec params number numbers perché avrei dovuto scrivere sul server dove è andato eccolo qua avrei dovuto scrivere così se volevo il parametro ok perché parametro è solo se ci metto i due punti perché express capisce che allora quello è un parametro era number ok perché con il browser non funzionava no in realtà con il browser dunque allora con il browser sì avevo messo number vediamo un attimo sì con il browser non funziona perché la richiesta non piace al proxy cioè il proxy cioè react development server non passa la richiesta al all'altro server se noi andiamo a vedere mi ha messo l'accept text html negli header no e quando fa così e questo è il comportamento di default del browser perché quando non sa cosa fare il browser vuole un html no e questa richiesta non viene passata al all'altro server dal proxy ok questa è la regola che abbiamo dato qui no per questo che abbiamo messo le regole che è una cosa un pochino tecnica ecco che però appunto è importante sapere perché finisce che poi c'è la richiesta che non vi passa oltre al proxy e non sapete perché e questo è il motivo se noi la facciamo con un altro client non postiamo l'accept text html così come se esce dalla fetch di default non imposta l'accept text html quindi il proxy la passa all'altro c'è una risposta e arriva ok e come se il browser forzasse il server react a dargli una risorsa statica e se ho capito bene sì praticamente sì sì diciamo che chi ha scritto il development server di react ha dovuto darsi una serie di regole per cui decide se la richiesta la serve lui o la passa col proxy all'altro server no e queste sono le regole ok ah mi era sembrato di vedere i due punti sì non c'erano è proprio sono proprio due righe per fare delle prove ecco poi poi la prossima volta perché oggi probabilmente non ce la facciamo vediamo il l'esempio react scores quindi con i voti eccetera fatto per bene con tutto quello che abbiamo imparato oggi ma la lezione di oggi è un po' densa no ma la prossima volta ci prendiamo il tempo per andare a provarlo in pratica su un'applicazione vera perché poi questa roba qua la dovete usare per l'esame perché non si può scrivere un'applicazione che non fa il caricamento da server cioè diventa inutile il corso no ok direi che non ci sono altre domande al momento e quindi farei un po' di pausa visto che sono appunto le 10 quindi i nostri soliti 5 minuti di pausa che magari poi si estendono un pochino come sempre fermo lo zoom spero che riparta subito ma insomma zoom è abbastanza affidabile di solito e quindi vi scollegherete tutti ma potete ricollegarvi subito proprio 30 secondi di tempo di cliccare per far ripartire tutto quanto ok così la registrazione processata in background e tutto quanto ok grazie tra pochissimo allora ora grazie a tutti